Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, io sono il vostro Meteorals, oggi siamo su Paradise Lost, un gioco che è uscito il 24, ragazzi, io sto registrando oggi che è il 25, penso che ve lo porterò domani o dopodomani, quindi è un gioco nuovo di zecca, ringrazio i sviluppatori che me lo hanno gentilmente regalato, vi leggo su Steam, allora su Steam, ha una valutazione molto positiva, ok, dice che ha diverse lingue, tranne vabbè l'italiano, però avrebbe una, due, tre, quattro, una decina di lingue, però io quando guardo nel settaggio non le vedo queste lingue qua, quindi non so se le implementeranno dopo o che cosa, forse non le ho viste io, Il genere è avventura indie simulazione, quindi io l'ho provato comunque, è come se fosse un'avventura grafica Il testo dice, emergiti nell'ultima storia della terra con Paradise Lost, un'emozionante esperienza post-apocalittica, scopre il destino di una città sotterranea nascosta in un bunker nazista abbandonato, dove la mitologia slava si unisce alla tecnologia, detto futuristica, ok, E l'ho provato graficamente, molto bene ragazzi, andiamo a vederlo, vi diamo un'occhiata, poi se vi piace o non vi piace, ve lo deciderete voi Grazie 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 Anche qua per un attimo non si vede niente, è normale, ecco che accende lo zippo, lo Zippo tippo Autore dei sovrapposti 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 l'atmosfera a me piace parecchio il genere di atmosfera che è dedicata alla seconda guerra mondiale che mi piace allora qua abbiamo io credo questi siano i livelli del bunker quindi questo è il livello 0 dobbiamo andare al livello 4 perchè poi l'ho provato fino a un certo punto nelle porte non ci sono arrivato vai la è chiusa perchè c'è una scaletta pronta io questo inizialmente pensavo che fosse il famoso bunker di hitler però non so se in realtà l'avesse fatto in polonia ma non credo dove praticamente era un bunker segreto dove lui aveva proprio la metropolitana privata cioè questo convoglio e tutta la metropolitana era segreta e privata proprio di hitler che è esistito veramente questa cosa qua dove lui si spostava in gran segreto sotto terra e nessuno sapeva dell'esistenza quindi potrebbe fare riferimento benissimo a questo bunker ok però sinceramente non so se era in polonia non credo fosse in polonia questo bunker qua e non credo che fosse il famoso bunker di berlino dove poi si è suicidato hitler non credo non credo e lui piano piano nel davanti sblocca i ricordi un'altra nota questo è una boccetta ecco anche perché fa fatica a salire e scendere infatti me lo domandavo perché ragazzino non l'avevo capito dall'inizio mi piace molto non c'è non c'è purtroppo ragazzi non qui ci stava la bella musica di sottofondo un po' un po' un po' un po' un po' un po' di effetto diciamo ambientale ma non c'è un po' una musica non non questo niente un po' un po' un po' un po' un po' attiviamo questa specie di piattaforma barra ascensore per lo spostamento dei vagoni della metropolitana credo ho che correre si va leggermente più veloce non è che proprio corre ora vediamo se riusciamo ad arrivare dove non sono arrivato io sto andando avanti abbastanza celermente perché queste cose qui le ho già fatte così potete vedere anche di più il gioco ok qua io credo che dovrebbe uscire dal bunker e ci sono queste quattro per lo stato e gigantesche quelle non ci sono arrivato e queste torri credo che questo sia l'elemento come dire mitologico un po' e poi in realtà l'elemento mitologico da parte dei nazisti scela diciamo che non è proprio 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 fantasy dipende come l'hanno poi sviluppato se si attengono a quello che era realmente secondo i nazisti oppure no e comunque loro avevano molti miti mitologici loro erano la ricerca del santo graal e della lancia con questo frito cristo e tante tante altre cose questa praticamente dovrebbe essere un deposito vagoni oppure tipo la stazione ok 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 ho capito tutto sembrerebbe una preghiera perché alla fine dice amen dovrebbe essere una preghiera che fa vedere che c'era la maschera antigas qui è un altro flashback questo è un altro flashback e credo che sia non so se è sempre lui oppure un soldato però sembra essere in zona di nel campo di combattimento e finisce così ok ok la strada da seguire obbligatoria non è che ci sono alternative allora 01 siamo al livello 01 quindi se lo 00 era nel bunker lo 01 e fuori vuol dire che noi dobbiamo andare sempre di più all'esterno questa è la stazione dei treni però se se è una metropolitana segreta dovrebbe stare tutta all'interno mentre questa sembra una stazione pubblica proprio con i nomi quindi sembrerebbe quasi che qui facesse la deportazione anche se i vagoni mi sembrano un po' troppo di russo che la deportazione la facevano con dei vagoni in legno proprio dove non c'era praticamente niente nemmeno delle sedie nulla qui c'è qui ci vorrebbe una ritenza di nuovo qui ci vorrebbe una ritenza di nuovo qui è vincente l'istante qui ci vorrebbe una ritenza di nuovo ecco ragazzi, credo che da qui in poi non sono andato oltre perché da qui mi sono spaventato ho visto che scivolo ho detto addio, addio, addio troppa paura qui ci vedrebbe benissimo anche un bel gioco d'horror e forse sarebbe stato meglio averlo sviluppato come gioco d'horror l'ambientazione sarebbe stata perfetta secondo me avrebbe dato molto di più qual è? qui, oggetti preziosi mi sembra che è una zona di smistamento oggetti e borse valigie graficamente ragazzi a me piace molto se l'avessero secondo me fatto in veste horror l'ambientazione sarebbe stata perfetta ho immaginato un horror in un bunker tedesco sarebbe stato meraviglioso la tempi della seconda guerra mondiale la tempi della seconda guerra mondiale la tempi della seconda guerra mondiale non è stata errada senza erogare non è molto più non è molto più ma è molto più ma è molto più prima di inserire c'è un sacco di valigie c'è una foto di un asigno, da là direi anche, per i tempi qui un'altra nota, vi lascio sempre il tempo un attimino di leggere, poi magari mettete in pausa e qua, la posso aprire? che bello ho i giochi senza aver bisogno di chiavi sono proprio balli qui ci sono degli anelli, quindi qua secondo me qui ci sono dei denti d'oro, quindi queste qui praticamente quando arrivavano gli ebrei che li svestivano, gli levavano tutti gli averi che qualsiasi cosa d'oro avessero qua è la doccia ok qui sono manette ok, scesso le porte e chiuso anche qua, fatta che sta accendendo un po' la porta finita ok 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 andiamo ok 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 ma se non vedo una ceppa però che fa? è cascata ok ah siamo dentro il siamo dentro la stazione balla non ce l'ha arrivata qua vanno ok 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 è una grande aspettato che non queste parti buie che non posso visitare perché tanto non si deve niente e ma mi aspettava a me l'ascensore Da tempi questa era una rivista porno che faceva vedere le caviglie, è uno champanghino non l'avevamo fatte proprio al 4 bravo, vedi che ho capito ecco che fareva no Sì, è difficile di tutti, si la mandi quasi più in tilt Ah, lui si era lasciato morire e invece Dovremmo essere al piano 2 sicuramente E' il 3 e 4, eh si, eh non 2, il 3 e 4 te lo fa, si è il qua, adesso, adesso, l'hai chiuso 2, 3, 4 te li fa far piede, perché era troppo semplice andare con l'ascensore Pronto? Allo? Oddio, che è successo? Ah, è il ranghide Vai Voglio andare, vede qua, vediamo l'ultima stanza ragazzi Poi se vi piace questo gioco e volete che lo porti avanti, lo porto, altrimenti ci fermiamo qua Mi do sempre il tempo per leggere le note Non è male come gioco, eh Quello fa da sé Questi sono gli uffici della stazione Altra nota Ti fa avere un pannello Altra nota Perché mancano qui le note Praticamente questa è la scoperta della nota perduta Oh Oh Michael Jackson C'è qualcosa di misterioso Questa è la spada laser di Star Wars L'hanno inventata loro Ho nominato Michael Jackson e è andato via tutto Qualcosa di misterioso Comunque questo gioco ti porta ad andare avanti, eh Perché solo il fatto visivo è molto affascinante Io ripeto ragazzi, se ci avessero fatto un horror Sarebbe stato un giocone numero uno secondo me Perché l'ambientazione Già di per sé fa il gioco Se poi avessero implementato qualcosa Secondo me tipo horror Sarebbe stato perfetto Frisbee La medaglia Ma forse va messo da qualche parte Qualcosa da attivare Qualcosa da Qualche enigma Da risolvere Cioè è solo Cioè a me come ambientazione Mi piace parecchio Ma è solo osservazione A quanto vedo Va bene ragazzi Io direi di fermarmi qua Se volete vedere di più di Su questo gioco Me lo dite Me lo fate Me lo scrivete nei commenti Me lo fate capire con i like E tutto quanto Se volete che porti un altro gameplay O più di uno Insomma fatemelo sapere E noi andiamo avanti Altrimenti ci fermiamo qui E portiamo altri giochi Io comunque vi ringrazio per la compagnia Ripeto Bellissimo gioco Come ambientazione Mi piace da morire Come grafica molto bello Però Secondo me andava sviluppato In maniera Io l'avevo sviluppato In maniera totalmente diversa Ma volendo Si potevano aggiungere enigmi Si potevano aggiungere Cose da Come dire Tipo anche Che ne so Sta medaglia qui Da incastonare da qualche parte Per attivare cose Eccetera eccetera Quindi Io vi ringrazio per la compagnia Ci vediamo Alla prossima volta Ciao a tutti